ehi la purtroppo scusatemi ma non posso non dire la mia non posso proprio a parte il fatto che tengo un poco di mal di cola se si è sasicci la ieri perché poi sappiamo la carne fa male quindi ieri mangiate il sasicci che poi è carne trasformata no ti sento un poco male però non mi ha dato un brocazzo scusatemi il francesismo cioè l'unione europea ha detto che ci possiamo mangiare gli insetti e le alghe partendo dal fatto che le uniche alghe che noi conosciamo sui pizzette e le pizzette di alghe è nata cosa mi dirige una cosa a me come fa affamala la pizza la carne e uno scarraffone cioè immaginate le mamme napoletane che non vieni che fanno ehi ho fatto le pizzette di zanzare ma che stiamo dicendo ehi la situazione è grave ci stanno rubendo cazzo a noi la carne e le cose ci mangiamo gli insetti lasciamo sta comunque mo ricettino da già mangiate anche il scarraffone durato è fritto